0, 7, 6, 5, 40, 71. A pronto comune oggi risponde il centralino di Fiano Romano. Il comune di Fiano Romano è uno dei primissimi comuni della provincia di Roma e conta un numero di abitanti pari a 14.407. Secondo alcuni studiosi si sarebbe sviluppata in seguito alla decadenza del centro religioso di Locus Ferronia e la popolazione locale per sfuggire alle invasioni barbariche si sarebbe rifugiata sulle colline circostanti, costituendo gli insediamenti da quali ebbero origine appunto Fiano, Civitella San Paolo, Nazano e l'attuale Capena. Il comune di Fiano Romano è proprietario di una grande biblioteca che ha da poco festeggiato il suo trentennale e che custodisce tra le sue mura ben 21.500 testi. Ad accoglierci al nostro arrivo c'è la referente Luigia Tozzi. Abbiamo tutti i tipi di documenti, non è una biblioteca specifica ovviamente. Svolgiamo tutte le attività di prestito, di prestito esterno, di consultazione interna e anche di prestito interbibliotecario. Redileggiamo ovviamente gli studenti universitari che richiedono dei testi e questo ha un costo pari a zero. Ovviamente è un costo che si accolla l'amministrazione comunale. Per il resto abbiamo due sale di lettura, per gli adulti la sala dei ragazzi. Stiamo lavorando per ottenere dalla provincia l'accesso ad internet gratuito con la rete wifi. C'è in progetto l'allargamento e l'ampliamento della biblioteca, quindi creare altri spazi per inserire dei documenti che al momento sono in giacenza e che devono essere catalogati, inventariati e poi quindi con la possibilità di accesso a tutti. Abbiamo scelto di uscire dalle mura della biblioteca per arrivare alla gente. Lo facciamo attraverso la bibliobancarella, che è un sistema di vendita di libri che avviene con le dorazioni gratuite da parte degli utenti. Gli utenti ci donano dei libri e noi valutiamo se inserirli in biblioteca oppure venderli a costi bassissimi, due euro di offerta minima a testo. Questa bibliobancarella porta con sé anche un altro progetto che noi abbiamo realizzato circa, se non sbaglio, tre anni fa. Abbiamo raccolto una serie di foto che la gente liberamente ci ha portato, le abbiamo scansionate, le abbiamo stampate, abbiamo fatto delle mostre dell'archivio storico fotografico Raccontami di Fiano, questo è il titolo dell'archivio. E la gente ha apprezzato molto, ha apprezzato perché si rivede la Fiano di una volta e quindi ha apprezzato molto questo nostro progetto. In controtendenza rispetto alle altre amministrazioni locali, il Comune di Fiano Romano è molto attivo nell'organizzazione di eventi e manifestazioni che coinvolgono la cittadinanza. Il capitolo di bilancio dedicato alla cultura è stato addirittura potenziato, grazie anche all'aiuto delle associazioni territoriali. Uno dei fiorell'occhiello rimane il premio letterario Ferroni, gestito per intero dal Comune. È un premio, un antipremio è stato chiamato, proprio perché non viene la premiazione sulla base delle proposte delle case editrici, ma è una giuria che tutto l'anno legge tutti i testi a livello internazionale e naturalmente premierà il testo che giustamente venga premiato. Devo dire che questo ci ha avuto un successo perché addirittura sono stati premiati scrittori che sono stati premiati pure come premio Nobel. Questo per farvi capire naturalmente l'importanza che ha questo premio letterario. Poi ci sono altre iniziative importanti, noi abbiamo un festival del cinema che vede che dura, un festival del cinema al femminile, tratta praticamente le problematiche della donna e ha visto, diciamo, da questo punto di vista. E ha visto la presenza, anche quest'anno vedrà la presenza di... Di un esponente importante del paese. ...di registi, sceneggiatori, attori, no? E questa dura sei giorni con la presenza, diciamo così, di molti cittadini che vengono naturalmente ad assistere a questa iniziativa. C'è prima un dibattito, un dibattito con gli attori, come dicevo prima, registi e sceneggiatori e così via. E poi naturalmente dopo il dibattito c'è la produzione del film con quella tematica, che per ogni sera è una tematica diversa. Sempre dell'universo femminile. Esatto, sempre comunque problematiche che riguardano l'universo femminile. Anche quest'anno conferma la presenza della vostra più illustre concittadina, Sabrina Ferilli. Adesso io stiamo nella fase costruttiva di questo festival, forse ci sarà la presenza anche di l'attrice, nostra concittadina Sabrina Ferilli, forse anche Raoul Boe e poi altri attori, altri sceneggiatori che adesso mi sfuggono naturalmente. Stiamo nella fase di preparazione naturalmente. E poi c'è un'iniziativa importante che è il Borgo Festival, è un'attività che noi facciamo all'interno delle vie del paese, dove naturalmente dura 4-5 giorni, dove c'è un'attività all'interno con attività di teatro, di ballo e molte altre iniziative di carattere. Sono iniziative ben distribuite che vanno a coprire poi ogni interesse della popolazione, che possa essere dalla musica al teatro. Quello che per me è stato fondamentale è fare in modo che le esigenze delle associazioni locali e le esigenze naturalmente di chi dovrà fruire di queste attività fossero diciamo così complete, nel senso naturalmente perché faccio il bando l'anno precedente, perché poi noi sceglieremo queste attività facendo in modo di soddisfare le esigenze di tutti, dal ballo, dalla danza, attività per i bambini, lo sport e così via. Allora, diciamo una programmazione che tiene conto sia della spesa economica, perché naturalmente dobbiamo tenere conto anche delle nostre disponibilità. Però devo dire che l'amministrazione è sempre presente e aiuta il più possibile tutte le associazioni che lavorano nel nostro territorio. Parte attiva e fondamentale di molte delle manifestazioni è anche la Proloco di Fiano Romano. Allora, signor Franco, ci parli di quali sono le attività poi di questa Proloco e che tipo di rapporti intrattenete anche con le associazioni locali, con le istituzioni? Diciamo che la Proloco di Fiano Romano ha una storia pluridecennale. A livello ufficiale è stata istituita nell'anno 1970-1973. Fino a qualche anno fa, diciamo fino a circa 15 anni fa, l'attività della Proloco era rivolta all'organizzazione della festa principale, quindi la festa della Madonna Adolorata. che avveniva la terza domenica di settembre. Da qualche anno invece abbiamo cominciato ad essere presenti sul territorio nell'organizzazione di molteplici manifestazioni, coinvolgendo, naturalmente questo è il nostro scopo primario, coinvolgendo tutte le associazioni presenti sul territorio. Rolgo l'occasione per presentare il libretto del 170esimo anno della Proloco, l'anno scorso, quindi quest'anno siamo al 171esimo. Sono manifestazioni imponenti con la presenza di cantanti, di gruppi musicali importanti, ma intorno vengono condite con le cose che riguardano i giovani, lo sport, i ragazzi, le scuole. La quarta edizione di Fiano in Festa, sono tre giorni in cui tutte le associazioni, come ripeto, comprese le scuole, sono presenti in questa manifestazione. Sarà presente la festa di vicoli, nella quale manifestazione ogni piazza del centro storico rividerà come nei tempi antichi, con stand gastronomici, una vera e propria rievocazione. Faremo le selezioni ufficiali di Miss Italia. Vedo un luogo conosciuto, effettivamente. Un ufficiale, infatti, sì. Però il nostro vanto è la festa di settembre, della Madonna dolorata, dove noi, diciamo, è il più grande impegno, sia a livello di forze, perché noi convergiamo molti soci e la grande parte della cittadinanza contribuisce a queste cose. Che comunque, coinvolgendo le associazioni, vengono coinvolti i figli, vengono coinvolti i genitori, vengono coinvolti i parenti, le scuole. Di conseguenza c'è una partecipazione veramente rimasta. Di questo siamo orgogliosi. Come ripeto, grazie all'avvento anche della nuova amministrazione, del sindaco Torino Ferilli, che veramente si sta dando da fare per questo prologo. Il sindaco Torino Ferilli, in carica dal maggio del 2011, è contornato e adiuato da una giunta molto giovane, la cui età media si aggira intorno ai 35 anni e che molto incide nell'approccio e nella gestione delle problematiche comunali. Abbiamo costruito un programma e il piano di mandato del sindaco, che abbiamo approvato poi in consiglio comunale, è un piano di mandato che è concentrato assolutamente su un aspetto importantissimo, su un valore fondante e fondamentale. Quale? Quello di rimettere al centro della discussione, di rimettere al centro del dibattito il vero protagonista di una comunità, che è il cittadino. Quindi andare a ricoprire il più possibile a 360 gradi le sue esigenze, le sue problematiche e ad ascoltare anche con attenzione, con un'analisi attenta, profonda e soprattutto responsabile le critiche costruttive. Abbiamo da subito aperto un ufficio di relazione col pubblico, che fosse un contatto diretto, servizievole e di ascolto soprattutto del cittadino. Abbiamo lavorato fortemente, abbiamo voluto lavorare fortemente sotto l'aspetto della comunicazione, quindi tutto quello che è, anche perché un'amministrazione deve attualizzarsi e deve essere contemporanea con la situazione sia economica, sociale e col periodo storico in cui si vive. C'è un vostro progetto molto importante, molto anche funzionale, che è stato inaugurato da poco, Comunichiamo. Comunichiamo è un progetto importantissimo, di cui io ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per dare la possibilità di arrivare a questo, dare la possibilità di non prendersi un giorno di riposo al lavoro, di assenza al lavoro, per comunicare un disagio che il cittadino vive, per quindi recarsi all'ufficio competente del Comune, ma avere la possibilità, stando in macchina con un telefono o stando a casa attraverso un tablet, di comunicare un disagio, di fare una segnalazione al Comune. Questa segnalazione arriva a questa bellissima piattaforma, a questo, diciamo, all'ente stesso, e viene poi smistato agli uffici competenti e c'è sempre un contatto diretto con il cittadino che mette a conoscenza al cittadino stesso dell'evoluzione di questa sua, diciamo, segnalazione, dal momento in cui viene presa in gestazione fino alla risoluzione stessa del problema. Il cittadino viene avvisato attraverso un'email, attraverso un messaggio che, grazie alla sua, viene innanzitutto ringraziato, perché un cittadino che segnala a un'istituzione un problema o che viene a segnalare un disagio o una proposta, bisogna ringraziarlo perché lo fa in maniera disinteressata per il bene della collettività. Noi da subito, appena ci siamo insediati, abbiamo capito che i grossi problemi, anche iniziando le prime conversazioni, iniziando i primi incontri, che un sindaco oggi, ma come tutti gli assessori, fanno, svolgono quotidianamente, la problematica in realtà dell'occupazione non è soltanto un problema nostro, è un problema nel nostro paese, Italia, la disoccupazione che è arrivata al 40%, soprattutto una disoccupazione giovanile e quindi ci siamo iniziati subito a muovere sotto quell'aspetto. Abbiamo fatto un'iniziativa con il Ministero dello Sviluppo Economico, dove abbiamo avuto l'onore di avere delle aziende importanti sotto questo aspetto, abbiamo avuto l'onore di avere il direttore generale, che è Pietro Cegli, abbiamo siglato un patto di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, dove abbiamo chiesto di aiutarci a creare uno sportello che abbiamo denominato Sportello Europa, perché? Perché le aziende oggi vanno supportate, vanno assistite e vanno aiutate, sia sotto l'aspetto della burocrazia, perché è un'azienda che a mille difficoltà non può andare a cuzzare con la lentezza burocratica delle istituzioni, quindi sotto questo aspetto per quanto attiene all'istituzione stessa e poi aiutarli a supportarli su tutto ciò che è il contributo europeo, il sostegno alle imprese, il sistema bancario, le banche devono essere assolutamente a sostegno e a supporto, le banche devono accompagnare l'azienda e un altro aspetto importante di questo Sportello Europa è l'internazionalizzazione del marchio Made in Italy, che è forte, il marchio Made in Italy che è importantissimo, dobbiamo cercare di accompagnare anche queste aziende all'estero, quindi prendendole per mano e abbiamo avuto in quella iniziativa importante anche la testimonianza di una società forte, importante, serie italiana nostra, leadership in quel settore, che è l'Olio Dante, l'Olio Dante che ha spiegato quali sono i fattori che influenzano e che danno la possibilità alle aziende di crescere. Le aziende debbono crescere e crescendo le aziende avremo noi la possibilità, noi come comunità, di avere delle risposte sotto quell'aspetto lì che è l'aspetto occupazionale. Oggi la politica si deve occupare di questi aspetti, questo Paese può ritornare a rialzare la china soltanto se iniziano a dare un ossigeno alle imprese serie. E adesso siamo arrivati allo spazio dedicato alle domande dei suoi cittadini. Ascolti bene Sindaco, il suo Sindaco, una richiesta in particolare. Il Sindaco? Sì. Che funzionasse bene per esempio l'acqua potabile. Allora, il problema idrico è un problema che attanaglia questa cittadina da circa 20 anni, 15-20 anni. Nell'ultimo anno, l'anno scorso abbiamo avuto un problema abbastanza serio che è iniziato a maggio e si è concluso ad ottobre-novembre, quindi capite bene è una cittadina che viene presa da un problema così importante, poi il problema idrico, il problema dell'acqua, è un'esigenza primaria. Abbiamo veramente passato un'estate infernale, abbiamo attivato subito, ci siamo attivati velocemente con Acea che è l'attuale società che gestisce il sistema idrico integrato, Acea Auto 2. Siamo arrivati anche ad aspetti poco gentili e poco diplomatici come denuncia alla Procura della Repubblica chiedendo di indagare di quali fossero le responsabilità. Alla fine siamo riusciti attraverso un'ordinanza sindagiale ad imporre ad Acea di attivarsi velocemente nella risoluzione. Si sono attivati, stanno facendo dei lavori importanti, aumenteranno quindi sia la portata idrica attraverso la costruzione di nuovi pozzi, ma attualmente una cosa importantissima è che ad oggi abbiamo recuperato tantissimi litri al secondo e ad oggi la pressione relativa all'acqua sembra interessare totalmente l'intero paese ad una pressione molto elevata e quindi attualmente sembra essere la situazione sotto controllo. Io credo che con i lavori che continuano ad avanzare, con tutto quello che è il rispetto dell'ordinanza fatta da Acea, degli adempimenti che Acea deve attraverso quell'ordinanza, io credo che questo problema ci lascerà fino al definitivo all'accio al peschiera, poi che risolverà tutti i nostri problemi, ci lascerà respirare e avere dei sonni, non dico tranquilli perché sarei troppo, ma comunque almeno spero. Richiesta al Sindaco di mandare via tutte le cooperative di piano romano che non sono di zona. Un altro problema che noi abbiamo oggi sempre in relazione all'aspetto che guarda l'occupazione e che vede in noi una forte battaglia, perché abbiamo richiesto un'interrogazione parlamentare che è stata fatta dall'ex ministro del lavoro Cesare Damiano, di cui non è stata data risposta all'epoca dal ministro stesso, abbiamo chiesto un'interrogazione regionale all'allora Presidente Renata Polverini, sempre sul tema delle cooperative spurie, delle cooperative illegali, delle cooperative che costringono i soci cooperative a lavorare in condizioni vergognose, in condizioni che cancellano la dignità umana e i diritti, perché sembra esserci alcune sacche di queste sintomatologie qui all'interno del comparto industriale, che voi sapete essere in maggior parte costituito da aziende logistiche e quindi stiamo facendo una battaglia e siamo arrivati fino ad una denuncia da parte della Giunta Comunale alla Procura della Repubblica perché indagasse e si accertasse che qualora ci fossero delle situazioni simili di comunque avviare delle indagini importanti coinvolgendo tutti gli enti preposti in maniera tale da andare a debellare, ma in maniera tale da andare ad eliminare questa grave patologia che veramente, voi sapete che quando si arriva a cancellare i diritti dell'essere umano e del lavoratore capite bene che questo troverà di fronte sempre un'amministrazione compatta, schierata e vogliosa di risolvere i problemi a tutti i costi. Beh, è una bella sala prove per tutti i ragazzi in modo tale che la gente può affittarla, può suonare, possiamo suonare tutti insieme. Ho conosciuto un sacco di ragazzi qui di Fiano che vogliono suonare e non riescono a suonare perché c'è una grande mancanza di sale prove, quindi penso che una sala prova comunale possa essere una grandissima idea, una grandissima trovata, anche perché magari a basso prezzo può anche guadagnarci qualcosa e tanti ragazzi potrebbero un po' in cui ritrovarsi. Ok, i ragazzi, allora i ragazzi sì, diciamo che noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato e stiamo cercando di progettare qualcosa che è profumi di giovane, anche perché come ci siamo detti siamo un'amministrazione giovanile e quindi abbiamo un'età media di 35-36 anni, quindi dobbiamo pensare fortemente ai ragazzi perché i ragazzi sono il nostro futuro e quindi noi abbiamo nel settore sportivo già degli impianti importanti che danno la possibilità di dare una ricezione abbastanza ampia su moltissime discipline sportive che impattano soprattutto sulla categoria giovane, ma stiamo portando a termine un'opera pubblica all'interno di un parco che di fatto nasce a fianco di un centro anziani, ma è una sala polivalente che darà la possibilità comunque, oltre al castello, oltre a una chiesa che è la chiesa di Santa Maria in Traspontem, può essere adibita anche a convegni, adibita anche a lezioni musicali, può essere adibita anche a delle discipline, a delle attività relative alla categoria giovani, comunque questa opera che noi stiamo portando a termine darà la possibilità anche di avere un ulteriore spazio ai ragazzi per poter ritrovarsi e portare avanti delle proprie passioni. Un'altra cosa importante è che noi abbiamo costruito un centro giovani, un'opera importante, questo centro giovani purtroppo l'abbiamo dovuto per esigenze legate alla richiesta sempre più crescente in relazione alla scuola materna, purtroppo abbiamo dovuto al momento temporaneamente modificarla e renderla compatibile a questa necessità. Voi sapete oggi che dare una risposta sotto l'aspetto della recettività della scuola materna significa dare l'opportunità e la possibilità a entrambi i genitori di poter andare a lavorare, in questo momento così difficile sotto l'aspetto economico abbiamo ritenuto in maniera coscienziosa, in responsabile, ma ascoltando allo stesso tempo sempre i giovani e rendendo sensibili i giovani a questo problema, quindi rendendoli partecipi, perché quell'opera era un'opera che doveva essere diretta a loro, l'abbiamo resi partecipi, i giovani si sono dimostrati molto maturi e responsabili e hanno dato la possibilità all'amministrazione temporaneamente di girarla a questa esigenza. Comunque il problema di trovare gli spazi ai ragazzi per noi non è assolutamente un problema, fa parte di una programmazione, di una progettualità, perché noi comprendiamo bene che è arrivato il momento di far prendere delle responsabilità, dare la possibilità a loro di crescere per formare nuovi sindaci futuri, nuovi amministratori futuri, nuove classi dirigenti futuri, nuovi amministratori delegati futuri, il futuro del nostro paese. Cosa chiederebbe al sindaco? Ripulire Fiano, ma ripulire della cittadinanza, a parte che la pavimentazione va bene, ma soprattutto di rendere vivibile il centro di Fiano che è diventato uno schifo, un covo di delinquenti. Bisogna stare sempre alle notte che vai a casa e ci trovi qualcuno dentro e ti minaccia. Tutti questi stranieri, nessuno gli richiama, nessuno fa niente e allora qui andiamo sempre peggio. Allora il centro storico, per quanto riguarda il centro storico la nostra programmazione nasce, noi abbiamo voluto mettere all'interno del nostro piano di mandato un'importanza, diciamo, e sottolineare fortemente il centro storico, ma perché c'è un motivo, c'è un motivo importante, perché tutta l'evoluzione dei paesi, tutta l'evoluzione delle comunità, delle collettività partiva dal cuore, dal cuore centrale della comunità, che era il centro storico. Si partiva dal centro storico guardando all'architettura, guardando all'urbanizzazione, guardando a una serie di aspetti, ma si partiva dal fulcro centrale, che era il centro storico. Quindi noi puntiamo fortemente, anche perché noi abbiamo un centro storico che è stato obiettivo di residenza di molti intellettuali in passato, registi cinematografici, abbiamo una piazza intitolata Peppe De Santis, un famoso regista, molti film, ultimamente stiamo regalando ai nostri cittadini un DVD dove c'è una raccolta di una serie di film che sono stati girati a Fiano, Totò, Alberto Sordi, Carlo Ordone, una serie di film anche storici e la volontà nostra è quella di riportare all'interno del centro storico non una riqualificazione di natura architettonica, anche quella, ma diciamo un innesto, un flebbo vitaminica di socialità, e di integrazione all'interno del centro storico stesso. I centri storici delle nostre cittadine, i centri storici dei nostri paesi sono interessati da un continuo ingresso di persone multietniche, di una, diciamo che iniziano a essere costituiti anche da una società multietnica che deve essere integrata, assolutamente, l'intelligenza e la buona attività di un'amministrazione che guarda a lungo e non al suo piccolo e stretto giro, ma che guarda a lungo è un'amministrazione che deve capire quali strumenti mettere in campo per riuscire ad amalgamare le diverse etnie, cercando di farle convivere nel miglior modo possibile e cercando di renderle partecipe, perché quando iniziano gli stessi abitanti del centro storico a hissare dei muri, è lì che si crea il problema, quando non c'è dialogo e quindi noi dobbiamo riuscire a dotare questi nostri concittadini degli strumenti giusti per riuscire a distruggere e a non permettere di alzare questi muri, ecco perché noi pensiamo a rendere pedonabile il centro storico facendo una chiusura controllata, una chiusura che porti il nostro centro storico ai stessi livelli di centri storici bellissimi nel nostro paese, penso a Pienza, a Città della Pieve, centri storici che sono delle vere e proprie attrazioni e uno strumento importantissimo dove noi faremo un discorso serio, un discorso molto serio e responsabile sarà il castello, perché io ritengo che noi abbiamo la possibilità che non tutte le comunità e non tutti i paesi come il nostro hanno di avere una struttura così importante e così imponente che può essere fonte di ricchezza e può essere uno strumento importante e serio per aiutare questo percorso e per aiutare questo processo, quindi io penso a un castello che abbia una destinazione una destinazione, un indirizzo turistico e culturale supportato dalla Regione Lazio, che sia un'opportunità anche da una Regione Lazio così lungimirante, così intelligente e così responsabile come quella che oggi la nostra Regione Lazio ha e quindi mi rivolgo alla Presidenza Zingaretti, quindi io cercando di mettere di fronte a un impegno importante e serio da parte della Regione Lazio perché potrebbe essere un'opportunità non solo nostra ma anche la loro. Cosa chiederebbe al Sindaco? Beh la scuola lascia un po' a desiderare, anche la sanità, anche il servizio sanitario lascia a desiderare, riguardo la guardia medica? Allora, per quanto attiene a questa domanda, noi abbiamo una struttura, voi sapete che la situazione legata al sistema sanitario nazionale è una situazione difficile, soprattutto nella nostra Regione, la nostra Regione che è un debito gigantesco dove le ASL non hanno possibilità economiche, dove ASL che sono ridotte a centellinare la cancelleria per i propri uffici e noi abbiamo una struttura che poi è una struttura che è di proprietà totalmente dell'amministrazione del Comune di Fiano Romano, messa a disposizione delle ASL dove purtroppo ha chiuso un reparto che era il reparto della fisioterapia ed è chiuso da molti mesi, un reparto che era quello della fisioterapia che ero piccolino io quando esisteva a Fiano Romano, è stato chiuso e dove la postazione relativa alla guardia medica è una postazione che non è attuale con le condizioni a mio modo di vedere che debbano essere consone di un aspetto sanitario che sia assolutamente buono per il cittadino che ricorre ad esso. E quindi noi abbiamo pensato anche che in questa situazione credo che l'amministrazione comunale debba assolutamente intervenire, debba assolutamente intervenire cercando di superire a quelle mancanze che oggi la sanità locale e provinciale e regionale ha. Noi stiamo progettando e stiamo raggiungendo un accordo per un intervento pubblico privato dove ci darà l'opportunità e la possibilità di aprire una farmacia comunale H24, aprire una farmacia comunale H24 significa essere una farmacia pilota per tutte le realtà limitroferle nostre, per tutti i paesi vicino ai nostri, perché comunque il primo sito farmaceutico aperto H24 è a Roma, a Corso Francia, quindi darebbe la possibilità anche agli altri comuni di attingere e in questa struttura dove noi apriremo questa grande farmacia comunale avremo la possibilità di ritagliare anche uno spazio per ospitare la guardia medica e non solo, cercando di dare anche la possibilità a eventuali specialisti di offrire un servizio importante alla nostra cittadinanza, servizio che noi comunque sotto l'aspetto sanitario espletiamo da moltissimi anni perché siamo stati comune pilota per il servizio infermeristico dove infermieri si recano facendo una domanda dei nostri cittadini a casa e esperano le cure dovute, abbiamo approvato pochi giorni fa, circa due mesi fa un servizio che permette di assistere gli anziani soli, di assistere tutte quelle persone bisognose che non hanno la possibilità di recarsi dal medico per prendere, per ritirare la ricetta e per recarsi poi in farmacia per prelevare i farmaci c'è una cooperativa di giovani ragazzi che espetta questa funzione questo servizio del tutto gratuita per queste persone bisognose, comunque anche questa è una tematica importante, noi abbiamo toccato delle tematiche che sono serie, importanti dall'occupazione alla situazione economica e per finire all'aspetto sanitario che anche esso è un problema serio che deve porre diciamo grande responsabilità e grande lungimiranza alla classe dirigente attuale sia amministrativa che politica, grazie, grazie Abbiate pure che Alessandro è illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce e perseverando nella fede vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cittadini Signore Gesù che fece Don Paolo Quattrini è il parroco del paese e da 12 anni segue la comunità di Fiano accogliendola all'interno della suggestiva chiesa di Santo Stefano Protomartire, sita nella piazza principale la sua costruzione risale alla seconda metà del Quattrocento ed ospita al suo interno prestigiosi dipinti L'ambiente sicuramente è un ambiente sano, buono, il paese è un paese che si è sviluppato moltissimo in questi ultimi anni diciamo ormai siamo quasi 15 mila abitanti e nell'arco di 10 anni è quasi più che raddoppiato come popolazione quindi ecco si vive alle porte di Roma con le persone, gli abitanti del comune, i parrocchiani che si muovono su Roma sono pendolari nella maggior parte dei casi e questo comporta insomma un po' una fisionomia del paese che fa fatica un po' ad avere un punto di riferimento, le persone sono un po' su vari fronti, sono impegnate in vari momenti anche i tempi che hanno a disposizione sono sempre pochi, si fa sempre un po' di corsa però l'ambiente mi trovo bene, si lavora bene, vedo che le persone rispondono soprattutto quando la proposta che si fa è una proposta che interessa e che è una risposta anche alle esigenze e ai bisogni della gente di oggi la nostra passeggiata a Fiano Romano finisce qui, ma prima di salutarvi ricordatevi che senza lille rinzellallera che non potete andare via senza aver assaggiato i biscottoni casarecci senza assaggiare l'ottimo olio degli olivi di Fiano e senza aver assaggiato le deliziose fregnacce alla Fianese di Sorgina ciao a tutti e a martedì prossimo ciao a tutti questo programma è stato offerto da carrozzeria Fratelli Angelucci via maestri di lavoro a Rieti il servizio multimediale per la tua auto